Per quanto riguarda l'immigrazione il modello, lo diciamo sempre, rimane lo stesso. Devono rispettare le convenzioni internazionali e il diritto del mare. Chi non lo fa ovviamente non potrà sparcare in Italia se non prima di aver condiviso con tutti gli altri paesi europei la destinazione di questi naufraghi. Noi continuiamo con questo modello perché è un modello di legalità e non c'è altra via se non continuare su questa via. Ovviamente l'altra attività che deve essere incentivata è quella dei rimpatri e ovviamente aspettiamo dal Ministro dell'Interno con l'appoggio di tutto il Governo che ci siano da partire da settembre nei prossimi mesi dei miglioramenti anche in questo ambito. I nostri porti restano aperti.